salve a tutti in questo video vorrei parlare dell'acquisto dei missili nordcoreani da parte della russia presenterò una controtesi la tesi dominante è che l'acquisto dei missili della corea del nord da parte della russia dimostrerebbe la debolezza dell'esercito russo la difficoltà dell'industria militare russa a tenere il passo della nato al contrario io sosterrò che l'acquisto dei missili della corea del nord da parte della russia dimostri invece la forza dell'esercito russo e la forza dell'industria militare della russia e più avanti nel video fornirò le prove a sostegno di questa mia affermazione le prove a sostegno di questa mia controtesi prima di leggere l'articolo come di consueto che ho dedicato a questo argomento un articolo che ho pubblicato l'altro giorno su sicurezza internazionale.com il sito di cui sono direttore devo fare alcune devo ho due comunicazioni di servizio importanti la prima riguarda il modo in cui saranno organizzati questi video nel futuro manterrò questa abitudine di leggere un articolo che pubblico sul fatto quotidiano o su sicurezza internazionale.com come sapete ho iniziato a leggerli da quando ho ricevuto una grande quantità di messaggi da parte di persone che mi dicono professor orsini io vorrei tanto poter leggere i suoi articoli non posso perché non ho i soldi per sottoscrivere un abbonamento e nemmeno per comprare il quotidiano in edicola in realtà non ho i soldi nemmeno per comprare la colazione al bar neanche meno per comprare il quotidiano e quindi manterrò questa che ormai è diventata una tradizione nel mio modo usuale di costruire i video la novità consiste nel fatto che prima di leggere l'articolo cercherò di rispondere a una domanda che ricevo da parte di coloro che seguono questo canale le domande sono moltissime quindi potrò sceglierne soltanto una e nello specifico in questo video la domanda a cui voglio rispondere è professor orsini alla luce di tutte le critiche che rivolge al blocco occidentale in ucraina in siria e chiaramente anche in palestina perché l'italia non esce dalla nato perché l'italia non fuoriesce dal sistema di alleanze guidato dagli stati uniti quindi questa è la domanda cui cercherò di rispondere in questo video la seconda comunicazione di servizio riguarda la prossima diretta con gli abbonati di sicurezza internazionale punto com e che so che seguono questo canale quindi ringrazio con tutto il cuore coloro che hanno scritto che hanno scusate coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a sicurezza internazionale punto com perché il sito di cui sono direttore non ha pubblicità per una scelta e non ha finanziamenti esterni quindi noi ci basiamo soltanto sui nostri abbonati perché vogliamo essere più liberi e indipendenti possibile quindi ringrazio tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a sicurezza internazionale punto com perché hanno reso possibile la realizzazione del mio sogno di creare in italia un quotidiano interamente dedicato alla politica internazionale una volta al mese io svolgo una diretta con gli abbonati di sicurezza internazionale punto com e a breve dirò quando si svolgerà la prossima diretta sicuramente verso la fine di gennaio però ho deciso di organizzare una diretta straordinaria dedicata soltanto agli studenti universitari agli studenti delle scuole superiori che con mio grande onore hanno sottoscritto un abbonamento a sicurezza internazionale punto com e per me è un onore sapere che tra gli abbonati di sicurezza internazionale punto com ci siano studenti di tutte le università italiane in questa diretta nel video precedente avevo detto che si sarebbe svolta il 15 gennaio dalle 20 alle 21 la comunicazione di servizio è la seguente la diretta si svolgerà la diretta con i soli studenti abbonati a sicurezza internazionale punto com si svolgerà sì il 15 gennaio 2024 ma dalle 19 alle 20 quindi non più dalle 20 alle 21 ma dalle 19 alle 20 comunque tutti gli abbonati di sicurezza internazionale o meglio in questo caso gli studenti abbonati a sicurezza internazionale punto com riceveranno un link e una un link con tutte le informazioni potranno anche scrivere ci sarà anche una ci sarà anche una gabbia all'interno della quale sarà possibile formulare la domanda che lo studente vorrà rivolgermi e io poi leggerò queste domande cercherò di rispondere al maggior numero possibile di domande che riceverò poi nella diretta che si svolgerà alla fine di gennaio questa sarà aperta a tutti quindi chiaramente anche agli studenti a tutti gli abbonati di sicurezza internazionale punto com queste sono le due comunicazioni di servizio vengo adesso a la domanda prima di leggere l'articolo sulle armi acquistate da putin le armi sui missili nordcoreani acquistati da putin e vorrei vorrei rispondere alla domanda domanda peraltro piuttosto ricorrente perché la nato perché l'italia non esce dalla nato perché l'italia non decide di uscire dalla nato perché l'italia non decide di fuoriuscire dal sistema di alleanze guidato dagli stati uniti in realtà a questa domanda io ho già risposto in un mio video di alcuni mesi fa e proprio dedicato a questo argomento la nato però sono contento di riprendere l'argomento anche per i nuovi iscritti a questo canale qual è la ragione per cui io sono contrario a questa impostazione fermo restando che questo canale è aperto a tutti quindi questa è soltanto la mia opinione questo canale è stato creato lo dico sempre per restituire un po' dell'affetto che ricevo da parte delle persone che mi vogliono bene che mi incontrano per strada che mi scrivono delle lettere bellissime piene d'affetto e di solidarietà quindi siamo qui soltanto per ragionare questo è un canale che nasce nel tentativo di innalzare la qualità del dibattito pubblico in Italia sulla politica internazionale e quindi questo è soltanto il mio punto di vista tutti gli altri punti di vista sono assolutamente legittimi il mio punto di vista è un punto di vista realista come ho spiegato tante volte io sono un realista quindi applico il realismo politico allo studio della sicurezza internazionale non sono un idealista qual è la differenza tra un realista e un idealista? le differenze sono tante una di queste è che il realista parte da un'analisi delle forze oggettive in campo un realista, almeno questo è il mio approccio poi magari ci saranno anche studiosi realisti, analisti realisti della politica internazionale che hanno un approccio diverso dal mio ma sostanzialmente il realismo politico parte dall'idea che esistano delle forze oggettive e come tali indipendenti dalla volontà individuale tutte le volte che io devo fare una previsione di quello che accadrà in Ucraina studio i rapporti di forze, studio le forze oggettive che plasmano un certo campo e parto da lì, parto dalle forze oggettive quindi dico ma se queste sono le condizioni oggettive che plasmano la situazione in Ucraina il conflitto quasi certamente prenderà questa direzione quindi un realista pensa che queste forze oggettive esistano che siano fondamentali e che non siano tutto chiaramente perché anche i realisti politici riconoscono che un conflitto non è deciso soltanto da condizioni materiali, da condizioni oggettive ma anche da condizioni soggettive però pensa che le condizioni oggettive siano le condizioni necessarie ancorché insufficienti per analizzare, per fare delle previsioni per comprendere la politica internazionale per cercare di intuire quale sarà la direzione del mutamento internazionale un idealista invece pensa che queste forze oggettive esistano in maniera molto relativa alcuni idealisti pensano che non esistano affatto delle forze oggettive che le forze oggettive siano una costruzione delle nostre scelte, dei nostri ideali in qualche modo io direi un idealista spinto siccome ci saranno sicuramente degli idealisti che non si riconosceranno in questo ritratto che sto facendo allora diciamo che esistono tipi diversi di idealisti io parlo soltanto degli idealisti radicali quelli che così scherzosamente questa è sempre una chiacchierata tra amici ci chiamo gli idealisti spinti l'idealista spinto nella mia definizione è colui che nega l'esistenza di forze oggettive o che nega la centralità delle forze oggettive, dei rapporti di forza e che ritiene che tutto sommato con la buona volontà, con l'impegno, con gli ideali, con la militanza quello che vi pare sia possibile agli uomini forgiare questo campo di forze in cui si svolgono i conflitti, in cui si svolge la politica internazionale però io sono un realista che mette il realismo politico al servizio del movimento pacifista al servizio della pace quindi dico se i rapporti di forza sono questi in Georgia, in Ucraina non conviene fare queste politiche così aggressive nei confronti della Russia perché poi la Russia entra in Ucraina e scassa l'Ucraina scassa tutto il paese cosa che sta facendo ampiamente ricordate quando alcuni i miei detrattori i miei odiatori mi direggiavano perché utilizzavo questa espressione se noi non trattiamo subito con Putin Putin sventrerà l'Ucraina e chiaramente Putin ha già sventrato l'Ucraina pensate che ha lanciato 500 missili sull'Ucraina in 5 giorni in 5 giorni 500 missili 500 missili in 5 giorni questo per darvi un'idea del dominio assoluto che la Russia esercita sull'Ucraina però un idealista è diverso rispetto a un realista questa è la premessa fondamentale ora sono pronto a rispondere alla domanda perché io penso che non sia una buona idea o perché comunque io non sposo questa idea della fuoriuscita dell'Italia dalla Nato o addirittura dal sistema di alleanze a guida americana per quale motivo? adesso vi dirò anche perché io ritengo che l'Italia debba rimanere nella Nato e nel sistema di alleanze in cui si trova ma in un modo particolare quindi arriverò a questo punto il mio problema non è se l'Italia debba uscire o meno dalla Nato il problema dal mio punto di vista è come l'Italia dovrebbe stare dentro la Nato e come l'Italia dovrebbe stare dentro il blocco occidentale comunque fra un istante arriverò a questo il punto essendo realista è questo che se l'Italia uscisse dalla sfera di influenza americana finirebbe sotto un'altra sfera di influenza l'idealista invece scusate l'idealista spinto l'idealista radicale non ragiona così una delle caratteristiche degli idealisti anche lo dico con molto rispetto e chiedo subito scusa se qualche idealista si sentisse offeso per questo e anche un pizzico di ingenuità perché generalmente gli idealisti essendo molto concentrati sull'ideale più che sul reale non si pongono la domanda sì ma poi che dopo che cosa accadrebbe quindi la domanda è che cosa accadrebbe se l'Italia uscisse dalla sfera di influenza americana dal mio punto di vista l'Italia non potrebbe diventare una superpotenza per cui le alternative sono due se vuoi essere completamente libero autonomo o indipendente o meglio se vuoi essere che nessuno lo è in maniera assoluta nessuno stato nemmeno gli Stati Uniti o la Russia nemmeno le superpotenze ma se tu vuoi essere libero autonomo sovrano indipendente come gli Stati Uniti devi diventare una superpotenza non ci sono alternative l'Italia non può diventare una superpotenza quindi finirebbe sotto la sfera di influenza di un altro paese probabilmente la Cina probabilmente la Russia soprattutto un paese con le fragilità dell'Italia l'Italia ha un'economia con molti problemi molto vulnerabile esposta anche ad attacchi a fluttuazioni internazionali ad attacchi esterni attacchi di speculatori e quant'altro ha soprattutto l'Italia questo lo devo dire con molto dolore non avrei mai voluto dirlo l'Italia non ha un esercito l'Italia non ha un esercito l'Italia ha io ho ovviamente un grandissimo rispetto una grandissima stima un grandissimo affetto per le nostre forze armate per il nostro esercito per tutto questo ma che semplicemente non abbiamo la dotazione militare per poter affermare di avere un esercito quindi non sto facendo riferimento al valore al coraggio dei nostri soldati sto dicendo che quando il ministro Grosetto come ha fatto l'altro giorno va nella commissione in commissione a dire che l'Italia che le navi italiane hanno soltanto 63 missili e ne stiamo parlando di un paese di una marina militare che è disarmata fondamentalmente l'altro giorno si parlava Corsetto parlava se ricordo bene credo che fosse questo il tema toccato da Corsetto mi scuso con lui nel caso in cui commettessi un errore ma comunque al di là dell'argomento che trattava Corsetto credo che parlasse della coalizione a guida americana nel Mar Rosso contro gli uti dello Yemen e si è posto per l'Italia si è posto per l'Italia il problema di sparare sugli uti e ammazzarli e da quello che io so Corsetto si è rifiutato ora non conosco le ragioni tutte le ragioni per cui Corsetto per cui il governo Miloni ha avuto l'ottima idea che io apprezzo moltissimo l'ho anche elogiato sulla mia pagina Facebook di non sparare in faccia agli uti per ucciderli però Corsetto credo credo ma mi scuso con Corsetto se sbaglio credo che abbia motivato questa decisione anche facendo riferimento a questa debolezza della nostra marina militare ha detto noi abbiamo soltanto 63 missili e pensate che gli Stati Uniti soltanto così per esibizione di forza l'altro giorno hanno sparato dalle loro navi 80 missili per spaventare gli uti cioè quello che gli Stati Uniti hanno sparato in pochi minuti l'Italia non avrebbe potuto spararlo gli Stati Uniti sparano 80 missili l'Italia ne ha 63 in tutto quindi l'Italia dal mio punto di vista che è un punto di vista realista e non idealista non può uscire dalla Nato semplicemente perché se uscisse dalla Nato si ritroverebbe senza la possibilità di difendersi da un eventuale attacco esterno questo sarebbe un fatto di una gravità spaventosa siccome io amo il mio paese profondamente anzi profondissimamente io non posso immaginare una politica che esponga l'Italia a un pericolo del genere molto semplicemente sarebbe sarebbe gravissimo e pericolosissimo per il nostro paese ritrovarsi in una condizione di doversi difendere da solo perché la marina militare italiana ha 63 missili e credo che il discorso si possa chiudere qui poi dopo se ne andiamo a guardare la nostra dotazione in termini di carri armati in termini di aerei da guerra e quant'altro c'è da piangere c'è da piangere ma non per il valore dei nostri piloti e dei nostri soldati che è altissimo ma semplicemente perché non abbiamo un apparato militare all'altezza delle sfide quindi questa è la prima ragione per cui in una prospettiva realista non sarebbe una buona idea fuoriuscire dalla Nato e non sarebbe una buona idea nemmeno la fuoriuscita dal sistema di alleanze guidato dagli Stati Uniti perché come ho detto o l'Italia diventa una superpotenza oppure finisce sotto il controllo della Cina o sotto il controllo della Russia poi chiaramente questo è un canale molto libero ognuno avrà le proprie opinioni e potrà contro argomentare dicendo secondo me professore ci sono motivi molto fondati per ritenere che sia nell'interesse nazionale dell'Italia diventare uno stato satellite della Russia o della Cina piuttosto che degli Stati Uniti questo non è il mio punto di vista però chiaramente ho un rispetto profondissimo per chiunque esprima un punto di vista diverso dal mio quindi ci saranno persone che magari pensano che la cosa migliore che l'Italia possa fare è diventare uno stato satellite della Russia o della Cina e quindi massimo rispetto anche per questa posizione adesso vengo alla mia tesi più nello specifico cioè il problema è che l'Italia dovrebbe stare nella Nato e in questa alleanza guidata dagli Stati Uniti rispettando l'articolo 11 della Costituzione cioè facendo quello che dovrebbe essere il paese pacifista della situazione a questo punto vedete qui il dibattito intellettuale diventa molto interessante perché poi questi argomenti sono utili per discutere come se fossimo come nel mondo della vita direbbe Habermas il mondo della vita dove le persone discutono liberamente senza minacce senza costrizioni senza essere allettati dal denaro in maniera molto libera io direi direi che l'Italia dovrebbe stare nell'alleanza in questo modo a questo punto qualcuno potrebbe obiettare potrebbe fare una controobiezione realista potrebbe dire ma professore Orsini ma tu hai appena detto che sei un realista politico dopodiché fai una proposta o elabori un progetto irrealistico perché se l'Italia decidesse di stare nella Nato rispettando l'articolo 11 della Costituzione che appunto proibisce ai governi italiani di dirimere le controverse internazionali attraverso l'uso della guerra qualcuno di voi potrebbe obiettare ma scusi professor Orsini e che interesse avrebbero a quel punto gli Stati Uniti di essere alleati dell'Italia perché l'interesse principale degli Stati Uniti nell'Italia è che l'Italia dia una mano agli Stati Uniti tutte le volte che gli Stati Uniti fanno una guerra quindi un'Italia che non possa essere utilizzata dalla Nato o un'Italia che non possa essere usata dagli Stati Uniti in funzione militare soprattutto in un periodo storico e soprattutto nel periodo storico seguito alla caduta del comunismo in cui gli Stati Uniti hanno colto l'occasione per espandersi il più possibile in tutto il mondo per acquisire quote di potere mondiale sempre più grandi in un contesto del genere se l'Italia non si rende disponibile a bombardare la Serbia illegalmente ricordiamo che nel 1999 la Nato ha condotto questa guerra illegale contro la Serbia con il sostegno dell'Italia e il stesso discorso riguarda la Libia nel 2011 il bombardamento della Libia per l'abbattimento di Gheddafi è stata un'altra guerra iper illegale in cui l'Italia ha partecipato adesso l'Italia sta partecipando in violazione dell'articolo 11 della Costituzione alla guerra in Ucraina contro la Russia e così via quindi mi rendo conto che il mio progetto sia contraddittorio da questo punto di vista perché presenta appunto perché perché presta al fianco a una controobiezione realistica però a me non interessa dirimere la controversia intellettuale in questa sede mi interessa semplicemente introdurre degli argomenti per alimentare un dibattito per consentire a tutti di confrontarsi di ragionare di discutere e poi in realtà io non sarei così pessimista perché ci sono paesi che fanno parte del sistema di influenza americano e che fanno i pacifisti della situazione però però l'Italia fa eccezione perché l'Italia non è un paese come gli altri l'Italia è il paese più importante della Nato insieme con pochi altri nella Nato esistono pochissimi paesi importanti come l'Italia scusate l'Italia è un paese importantissimo per gli Stati Uniti anche se noi tendiamo molto a sottovalutarci a disprezzarci in realtà l'Italia avrebbe un potere qualitivo molto forte avrebbe un potere molto grande sugli Stati Uniti cioè potrebbe sfruttare come fa la Turchia la propria posizione nella Nato per ottenere tante cose da parte degli Stati Uniti però non lo fa perché generalmente ne abbiamo una classe politica molto asservita e quindi abbiamo non tutti ovviamente sono così ma la quasi totalità dei nostri partiti politici dei nostri uomini politici sono persone molto paurose senza coraggio completamente asservite alla Casa Bianca ma l'Italia era una posizione geopolitica talmente importante che potrebbe ricattare gli Stati Uniti il termine ricatto è brutto ma il linguaggio dei realisti il linguaggio realistico è questo è anche la realtà dei fatti il ricatto è alla base della politica internazionale è uno dei pilastri della politica internazionale cioè senza ricatti la politica internazionale quasi non potrebbe esistere e quindi l'Italia come la Turchia potrebbe utilizzare questa posizione importantissima che occupa nella Nato per ricattare gli Stati Uniti però l'Italia semplicemente si fa continuamente ricattare dagli Stati Uniti e semplicemente non perché sia un paese debole non perché non abbia gli strumenti per poter essere più autonoma più libera di muoversi ma semplicemente perché ha una classe politica che per tutta una serie di ragioni che non posso qui sviscerare è completamente asservita alla Casa Bianca una delle ragioni per cui questo accade è che le più importanti cariche della Repubblica Italiana possono essere occupate soltanto con il consenso della Casa Bianca cioè non è concepibile in Italia che un uomo possa diventare Presidente della Repubblica essendo in viso alla Casa Bianca o il Presidente della Repubblica fondamentalmente è quello che deve dare garanzie assolute agli Stati Uniti con riferimento alle guerre il Presidente della Repubblica deve essere una persona soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino torna a ripetere quando la Nato è iniziata a espandersi sempre di più quando gli Stati Uniti hanno iniziato a fare delle politiche iperaggressive Presidente della Repubblica Italiana deve essere un garante degli Stati Uniti una persona di cui gli Stati Uniti si possono fidare cioè gli Stati Uniti devono poter dire in Italia c'è un Presidente della Repubblica che se noi dobbiamo fare una guerra illegale dice di sì questo è è diventato negli ultimi 30 anni la figura e il ruolo principale in politica internazionale del Presidente della Repubblica Italiana ma semplicemente perché è la struttura delle relazioni internazionali che si è modificata in questa direzione e la politica italiana è stata dentro questa scia ripeto non è che questo accada perché ci siano delle persone in Italia che sono cattive malvagie che tramano nell'ombra ma perché la politica internazionale perché le forze oggettive che plasmano la politica internazionale sono sono cambiate si sono dirette in una certa direzione che appunto quella dell'espansione dell'Occidente e l'Italia è stata sempre più proiettata nelle guerre sempre più fagocitata perché poi l'Italia pare abbia avuto anche un ruolo combattente in gran segreto e quindi chiaramente in violazione dell'articolo 11 della Costituzione anche in altri scenari di guerra l'Afghanistan l'Iraq e così via ma ad ogni modo questo è un argomento molto complesso cui bisognerebbe dedicare un video a parte quindi ho risposto a questa domanda vengo alla lettura dell'articolo che si intitola Putin compra missili dalla Corea del Nord che significa quindi vado a concludere il video con la lettura di questo articolo dunque riassumo quale sia la questione in campo la tesi è la Russia compra i missili dalla Corea del Nord perché ha un esercito al collasso la mia controtesi è no compra i missili dalla Corea del Nord proprio perché è molto forte la Russia compra armi da Kim Jong-un ciò che i media italiani raccontano come uno scandalo internazionale è il fatto più ovvio del mondo procurarsi le armi in guerra è normale ciò che non è normale è la conclusione che i media italiani traggono da questo acquisto questo dato di per sé non consente di trarre le conclusioni sullo stato di salute dell'esercito russo in altre parole la logica dell'indagine scientifico sociale non consente di affermare siccome Putin compra missili dalla Corea del Nord allora l'esercito russo boccheggia con questa narrazione i media italiani che svolgono la funzione di diffondere la propaganda della Casa Bianca cercano di nascondere tre fatti uno che l'Ucraina è un paese a pezzi in balia della Russia due che la controffensiva è stata un fallimento colossale tre che l'Ucraina ha perso la guerra perché combatte per un obiettivo che non può raggiungere ovvero liberare le cinque regioni occupate di Kherson Zaporizia Donetsk Luansk e Crimea quindi l'argomento qual è? ah vedete la Russia compra missili nordcoreani perché il suo esercito non è all'altezza di fronteggiare l'Ucraina di fronteggiare la Nato io dico no questa narrazione è falsa e viene utilizzata per nascondere il fallimento per nascondere la sconfitta della Nato in Ucraina per mano della Russia domandiamoci adesso perché Putin acquisti i missili dalla Corea del Nord e qui veniamo alla sostanza del mio articolo e quindi anche alla sostanza della mia controtesi quindi ripeto domandiamoci adesso perché Putin acquisti i missili dalla Corea del Nord le ragioni possono essere varie le ragioni possono essere varie in assenza di informazioni certe sviluppo le ipotesi principali ricorrendo all'immaginazione essenziale nella scoperta scientifica lo studio dell'immaginazione e della fantasia nella scoperta e nella ricerca scientifica è uno degli argomenti più affascinanti dell'epistemologia della metodologia delle scienze sociali e così via vediamo quale sia la prima ipotesi che sviluppo perché perché la Russia acquista missili dalla Corea del Nord la prima ipotesi è che comprare un certo numero di missili dalla Corea del Nord gli costa meno di produrli molto semplicemente la Russia li potrebbe produrre da sé decide di comprarli dalla Corea del Nord perché è particolarmente conveniente a Putin comprarli dalla Corea del Nord piuttosto che produrli la seconda ipotesi è che Putin abbia bisogno di coinvolgere la Corea del Nord nella guerra la vendita di missili impone a Kim Jong-un di fare un passo avanti nel conflitto sotto gli occhi del mondo segnalando che la Russia tutt'altro che isolata ha i propri alleati su cui contare la terza ipotesi è che la produzione di tutti i missili di cui la Russia ha bisogno per fronteggiare la Nato in Ucraina imporrebbe a Putin di trasformare l'economia russa in un'economia di guerra oltre i limiti che gli reputa opportuni ecco che comprare missili diventa più conveniente che produrli soprattutto in questa fase che precede le elezioni presidenziali quindi la terza ipotesi è questa Putin potrebbe produrre questi missili ma preferisce comprarli dalla Corea del Nord perché se dovesse produrli da sé dovrebbe accentuare la trasformazione dell'industria russa dell'economia russa in un'economia di guerra ed è possibile che non voglia prendere una decisione di questo tipo perché vuole investire le proprie risorse magari negli ammortizzatori sociali o in quello che vi pare quello che sto cercando di dire in altre parole è che la logica dell'indagine scientifico-sociale non consente di ricavare che l'esercito russo sia debole o incapace di fronteggiare la Nato semplicemente perché Putin ha acquistato missili dalla Corea del Nord vengo alla quarta ipotesi la quarta ipotesi è che la Corea del Nord ha sempre avuto una grande esposizione debitoria verso la Russia è possibile che la Corea del Nord reputi conveniente offrire missili alla Russia al posto dei rubli per ripianare il debito infatti il 19 aprile 2014 il parlamento russo cancellò il 90% del debito della Corea del Nord pari a 11 miliardi di dollari onorando un impegno preso nel 2012 fu deciso che la Corea del Nord avrebbe restituito soltanto 1,9 miliardi di dollari in vent'anni pagando una rata ogni sei mesi lo sconto per Pyongyang fu di 10 miliardi l'operazione fu gestita dalla banca russa per lo sviluppo contestualmente la Russia firmò una serie di accordi per vendere più gas alla Corea del Nord Putin prese questa decisione due mesi dopo l'annessione della Crimea febbraio marzo 2014 per fronteggiare le sanzioni occidentali Putin intuiva che l'Europa avrebbe potuto recidere i legami commerciali con la Russia a causa della degenerazione del conflitto in Ucraina i media italiani soprattutto al Corriere della Sera hanno rappresentato la Russia come un paese sprovveduso che ha invaso l'Ucraina senza prevedere le sanzioni dell'Europa la documentazione storica smentisce questa rappresentazione propagandistica dei fatti mostrando ben diversamente che la classe dirigente russa aveva messo in conto che l'espansione della Nato in Ucraina avrebbe creato una tensione estrema tra la Russia e l'Occidente e infatti Putin è andato alla ricerca di nuovi mercati alternativi a quello dell'Unione Europea ben prima di lanciare l'invasione dell'Ucraina nel 2014 la Russia non immaginava che ci sarebbe stata una guerra con la Nato nel 2022 tuttavia si è organizzata per fronteggiare una simile eventualità mentre la Russia è stata previdente l'Unione Europea è stata sprovveduta la classe dirigente dell'Unione Europea è stata presa alla sprovvista dall'invasione russa ma la classe dirigente russa non è stata presa alla sprovvista dalle sanzioni europee come dimostra la crescita del PIL della Russia mentre l'economia dell'Unione Europea è in recessione quindi questo è un'altra mia controtesi tesi dominante tesi del Corriere della Sera e dei suoi figli minori il Foglio il Giornale Libero la Repubblica è sempre stata questa Putin ha invaso l'Ucraina ma non si aspettava le sanzioni occidentali io dico esattamente il contrario Putin ha invaso l'Ucraina immaginando che l'Occidente avrebbe colpito la Russia con le sanzioni e infatti si è organizzato per fronteggiare questo rischio a partire dal 2014 in altre parole la classe dirigente russa non ha addormito la classe dirigente russa è stata previdente chi ha addormito è stata la classe dirigente dell'Unione Europea che è una classe dirigente completamente fallita infatti se il Corriere della Sera svolgesse quella funzione critica che la stampa dovrebbe svolgere metterebbe sotto accusa la classe dirigente fallita e corrotta che guida l'Unione Europea perché ha fatto un disastro in Ucraina e la strategia di uccidere la Russia in Ucraina di far crollare la Russia si è ritorta contro la stessa Unione Europea ad ogni modo qualunque sia la ragione per cui Putin compra i missili dalla Corea del Nord l'unica cosa che conti davvero in sede di analisi realistica della guerra è che la Russia abbia i soldi per comprarli e questo è il punto fondamentale cioè dal punto di vista del realismo politico noi possiamo sviluppare con l'immaginazione tutte le ipotesi che vogliamo resta il fatto che la Russia ha i missili di cui ha bisogno ha i soldi per comprarli questi missili quindi lo ripeto perché è fondamentale per seguire il mio pensiero qualunque sia la ragione per cui Putin compra i missili dalla Corea del Nord l'unica cosa che conti davvero in sede di analisi realistica della guerra è che la Russia abbia i soldi per comprarli qualunque sia l'ipotesi corretta resta il fatto che la Russia ha i soldi per comprare i missili nordcoreani e questo è ciò che conta veramente nello scontro in corso la disponibilità economica per armarsi è un elemento di forza di uno stato e non di debolezza la narrazione corretta dei media occidentali dovrebbe essere questa due punti aperte le virgolette mannaggia come se non bastasse la Russia ha pure i soldi per comprare i missili dagli altri stati chiuse le virgolette l'analisi realistica della politica internazionale è in primo luogo descrizione e analisi dei rapporti di forza nel primo giorno di guerra dissi che l'Unione Europea sarebbe andata in recessione e la Russia no e così è stato dissi anche che la controoffensiva sarebbe stata un fallimento colossale che avrebbe esposto l'Ucraina al contrattacco della Russia e così è stato ora dico che la Russia non ha problemi con i missili o li compra o li produce in entrambi i casi l'analisi realistica dei rapporti di forza dice che l'Ucraina è spacciata va bene vi ringrazio moltissimo ringrazio tutti coloro che sono iscritti a questo canale YouTube come sempre ricordo che questi video non hanno pubblicità per una mia scelta mi è stato offerto di introdurre le pubblicità dietro compenso e quindi di monetizzare con questo canale ma ho deciso di non farlo e va bene allora grazie mille e a presto